Cari aspiranti youtuber e cari amanti di videoconferenze in questo video andremo a fare la recensione di una webcam economica di Oki si tratta di una webcam HD 1080p andiamo a fare subito l'unboxing e la recensione ma come sempre dopo la sigla A dir la verità un unboxing l'abbiamo già fatto in passato ma comunque andiamo di nuovo a vedere che cosa c'è dentro la confezione c'è una piccola scatolotta con dentro la nostra webcam HD con un cavo lunghissimo USB e ci sono anche ovviamente le istruzioni che troviamo qua dentro eccole qui sono disponibili anche in italiano e poi ovviamente la chiave classica di Oki riguardo la garanzia eccola qui si tratta di una webcam a 1080p 30 fps ovviamente possiamo utilizzarla anche a 720p e via dicendo per quanto riguarda i pixel parliamo di 2 megapixel che sembrano pochi però secondo me sono soddisfacenti per fare ad esempio videoconferenze o gameplay su YouTube abbiamo qui un piccolo led che ci permette di vedere quando la webcam è attiva vedete che la struttura è ben fatta perché ci permette di utilizzare la webcam sia su una superficie piana come può essere ad esempio questo tavolo e possiamo attaccarla anche al PC muovendo bene questo gancio lo posizioniamo correttamente ci sono i gommini che lo tengono bello fisso e lo mettiamo al nostro PC il cavo è comunque USB come vi ho detto ed è lungo più o meno un metro e mezzo o due metri eccola lì montata la webcam sullo schermo del mio portatile volendo potevo metterla pure dietro sulla scrivania ovviamente non tutti hanno questa possibilità quindi ho preferito metterla sopra il mio schermo vedete anche che c'è qui un piccolo led che vi indica se la webcam è attiva e qui abbiamo anche il microfono che ci permette di registrare l'audio ovviamente io ho già avviato un piccolo software già presente su Windows 10 ovvero l'applicazione fotocamera che mi permette di impostare questa webcam senza dover scaricare nessun altro software infatti basta che lo attaccate alla USB Windows 10 vi riconosce automaticamente la webcam e non dovete fare nient'altro ovviamente è disponibile anche in altri sistemi operativi per quanto riguarda Windows sopra Windows XP va tutto bene e anche va bene per il Mac a questo punto che l'abbiamo vista montata io direi di fare una piccola prova video per vedere com'è prima di tutto il suono non utilizzerò il microfono della fotocamera ma utilizzerò il microfono della webcam e vedremo anche se questo HD vale la pena oppure no quello che state vedendo e sentendo proviene tutto dalla webcam diciamo che il suono non è bellissimo si sente un po' gracchiare mentre per quanto riguarda il video ok perfetto per quanto si registra i gameplay dato che comunque lo schermo rimarrà piccolino il fatto che sia 1080 a 2 megapixel va più che bene anche per le videoconferenze secondo me è una valida scelta poi per quanto riguarda la messa a fuoco arriva fino a 5 metri adesso mi sto allontanando così sentite anche il suono fino a dove si sente e vedete anche che la messa a fuoco non cambia per quale motivo? perché è fissa va bene? il testo finisce qui e arriviamo un po' alle conclusioni allora Poderac vale la pena o meno acquistare questa webcam che cosa vi dico? vi dico che questa webcam attualmente costa all'incirca 30 euro diciamo che la qualità video non è affatto male quindi chi vuole registrare gameplay può andare più che bene così non spendete tanto in webcam costose che magari in termini di prestazioni fanno più o meno come questa qui avete visto si tratta di 2 megapixel non è proprio una telecamera super full HD in ogni caso arriva a 1080p con una qualità discreta e anche il suono sì leggermente gracchia però può andare bene ad esempio nelle videochiamate Skype Google Hangout o quello che preferite su Amazon attualmente è una delle più acquistate quindi vi lascerò qui sotto il link in descrizione nel caso foste interessati se avete dubbi, domande, curiosità io sarò contento di rispondervi qui sotto nei commenti mi raccomando se il video vi è piaciuto lasciate un bel like iscrivetevi al canale seguitemi su Facebook, Instagram, Telegram che trovate sempre qui sotto in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao